C'è una partita molto importante, trovi un gol pesante che vale tre punti che a questo punto del campionato vogliono dire tanto e continuate sempre a rispondere presente anche dopo una sconfitta in trasferto, oggi l'atteggiamento è stato positivo fin da subito Sì, è stato lo stesso, purtroppo a Cesarina gli episodi ci hanno un po' condannato oggi affrontavamo secondo me una delle migliori squadre di categoria per quantità, qualità, cattiveria, organizzazione è stata una grande vittoria Rispetto magari all'inizio della stagione o in generale anche l'anno scorso avete una cattiveria nel gestire le situazioni, nel capire quelli che sono i momenti topici che fa impressione Sì, stiamo crescendo anche lì, possiamo migliorare perché secondo me abbiamo grandi margini e un grosso potenziale però ci godiamo questo momento L'obiettivo resta sempre la salvezza? Sì, assolutamente sì, guai a pensare ad altro Sabato ci sarà una gara molto difficile contro il Cagliari Cagliari con che spirito potete andare a giocarvela a Cagliari, credi in questa impresa? Sì, sì, diciamo che sono gare molto stimolanti, è un bel palcoscenico, penso che abbiamo tutto da guadagnare Stai facendo molto bene anche sotto porta Questa per te è un'annata molto importante Sì, sì, sto trovando quella continuità sotto porta che magari non avevo avuto e va comunque, a volte il gol magari mette in risalto anche le prestazioni che magari c'erano anche prima Grazie